Il giorno 11 febbraio, la festa degli innamorati e questa è una grande storia d'amore, domani 9 febbraio, lunedì, domani, giusto, si svolgerà a Roma un'anteprima del film, i cui prometti saranno devoluti alla SIA, società italiana per la miloidosi, a miloidosi, quindi questo è un gesto giusto. Io vorrei complimentarmi con la Manuele e portare sulle spalle il peso di Baglioni non è una cosa poco facile, invece hai una faccia molto simpatica e farai grandi successi. Grazie. Poi, Mery Petruolo che ha degli occhi che spaccano la telecamera e fanno innamorare tutti, a Giulia che devo dire, ma Giulia è una ragazza dolce, la parte che ti fanno fare da cattiva, vero, 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 Giulia Amato, Valentino, stiamo vicino al compleanno, facciamo un bel saluto alla tua fidanzata, a chi allora, scusa, come si chiama? Azzurna. Pubblicità. No, no, no. Come no? Ho capito, ho capito perché ingrassa, perché non parla, non fa fatica. Di qualche altra quella cosina, dolce. No, 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 io non sono romantico, no, no. Ho fatto questo piccolo grande amore, però non sono romantico. Tu non sei romantico? Sei un duro. Sì. Pubblicità. Vabbè, pubblicità. Bravo, Giulia. Grazie.